ciao 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 dunque allora sono pieno di casini e vi saluto allegramente le novità sono che questo innanzitutto non è un reggiseno è un costume ma qua fanno un milione di gradi all'ombra e quindi sono un po stancuccia distrutta eccetera dunque le novità di questa settimana è che sono sparita per un motivo perché ero in giro per colloqui per cose burocratiche percorsi percorsi ma percorsi per dei corsi e allora ho avuto le mie avventure e quindi adesso incredibilmente io ho qualcosa di simile a un impiego non voglio farmi delle illusioni comunque sia o una cosa tipo un impiego regolare benissimo che non è la prostituta ci tengo a dirlo benché in germania a fare la prostituta lavoro questo è un dato di fatto quindi sono un po presa con il nuovo lavoro lavoro impiego qualcosa di simile e poi devo studiare tedesco devo studiare cieco e quindi sono un po nella merda ma prima di iniziare a lamentarmi troppo volevo parlarvi di alcuni libri che ho usato dunque ci ne sono due che avevo usato nel corso precedente adesso crolla tutto e io verrò sepolta dunque il primo si chiama mittelpunkt noi il corso che ho fatto intensivo questa estate di un mire poi ne ho fatto un altro con questo libro qui e allora il primo devo dire che è fatto molto molto bene scusate mi stavo già per cadere il secondo è di una noia atroce perché dice troppe minchiate adesso mi abbasso così mi vedete dice troppo minchiate è veramente noioso i testi da leggere sono noiosi ce n'è un altro sempre del livello b2 perché è stato diviso in due parti esattamente come questo qui l'unica cosa che mi sembra sia un po più azzurrino chiaro in questa zona e si chiama b22 la stessa cosa allora il b22 come libro è un pochino più interessante perché anche il livello della lingua è un pochino più alto è stato fatto per gente che ha avuto credo almeno un diploma quindi aspettato un attimo alcuni si lamentano appunto perché insomma non hanno pensato a chi non ha un'educazione e quindi trova questo non avendo non sapendo delle cose già nella propria lingua materna saperla in tedesco è quasi impossibile io spero di non di non morire sotto questi libri comunque procediamo dunque adesso vado in giro cerco di non far vedere tutto il casino che c'è in casa perché le mie cose sono state buttate comunque delle occhiaie adorabili questi qui sono i libri invece che vi consiglierei spero che si possa vedere per il cieco ce n'è anche una versione scritta in inglese che sarebbe qualcosa tipo check step for step wow che denti gialli ho bevuto troppo caffè e devo usare delle cose e ho i denti distrutti di per mia sfiga perché io avevo un fratello che era una testa di cazzo di uno stronzo e da piccola mi ha lanciato un penso non lo so una bottiglia mi ha distrutto il dente comunque la testa di minchia e questo invece è il libro non degli esercizi questo rosso dice qui è del libro degli esercizi questo è insomma la teoria l'avevo già usato questo libro un pochino per il primo corso che ho fatto di cieco in repubblica cieca e la professoressa ci faceva delle fotocopia e l'avevo trovato molto buono per cui per questo corso ho deciso di prenderlo me l'hanno spedito a casa in un pacco enorme il tipo che mi ha spedito questo libro me l'ha spedito con tutto il suo cuore perché a me l'ha spedito in un pacco gigante con sistemi di sicurezza e mancavano soltanto valvole di sfogo c'è una centrale nucleare come sicurezza e niente adesso mi diverto con queste cose volevo solo dire una cosa che io oltre a questo volevo soltanto dire i motivi per cui sono una grandissima stronza io sono una grandissima stronza e lo dico con orgoglio anzi io sono veramente molte volte lo dico a parte le calvizie incipienti per per lo stress io sono un po una stronza per nel senso che accetto molto poco la sottomissione anzi non l'accetto per niente e accetto poco la stupidità o quello che io ritengo stupidità quindi per questi motivi io sono una grandissima stronza e fatto incazzare un sacco di gente mi sono pure vendicata perché quando la gente non capisce io glielo spiego in modo più forte finché non capisce per cui cosa devo farci anche un po la mia natura io sono una puttana non nel senso che mi prostituisco ma nel tipo che diciamo che in italia aveva una famiglia molto conservativa conservativa non mi ricordo la parola in italiano fatemelo sapere correggetemi pure non insultatemi se potete perché tanto non serve a niente non è che cambio è rinco ci sono rinco ci resto e niente secondo me è più importante quello che noi abbiamo da insegnare ai nostri genitori o le persone che ci sono attorno a noi rispetto a quello che loro possono insegnarci cioè io ho presso se qualcuno mi insegna qualcosa ma credo che sia anche molto importante dare il proprio contributo agli altri non farli annoiare e io non li ho fatti annoiare per cui cioè diciamo che avevo una famiglia che mi controllava molto soprattutto c'era una persona in questa famiglia che io non sopportavo di cui non sopportavo il controllo nella gelosia e io devo ringraziare un mio amico che mi ha fatto partire per l'erasmus perché mi ha aiutato con le scartoffie burocratiche sono partita e da lì ho iniziato una nuova vita completamente diversa da quello che era prima proprio andavo a ballare orario d'ufficio dalle 10 di sera fino alle 5 5 mezza di mattina a mezz'ora di pausa in modo molto professionale avevo anche i muscoli sulle gambe e quindi frequentavo stodolni che si trova a vostra in repubblica cieca io capisco che la gente ragiona per categorie quindi io sarei una secchiona con gli occhiali però in queste categorie io non ci sono mai entrata perché da piccola ero un idiota perché ho problemi di scrittura specchio ancora adesso l'altro giorno rincoglionita dal troppo fare e senza rendermi conto scritto con la sinistra vabbè per esempio confondo destra e sinistra allegramente molte volte ancora purtroppo vedere b e di vicino per me è una cosa che mi prenda agli occhi e quindi ero un idiota poi però l'idiota riuscita a fare ingegneria quindi non rientravo più nelle categorie degli idioti quindi dovevo essere la secchiona però per non essere secchiona e anzi diciamo che io se chi non mi sono mai sentito io mi sono sentita una persona che aveva tanta voglia di essere libero sono diventata puttana poi però puttana non andava bene visto che sono anni che non puttanizzo adesso non so più cosa sono diventato comunque sono una donna cattiva cattiva ciao a tutti e fatemi sapere come mi trovate con i libri che vi ho consigliato e per il resto a correggete il mio italiano perché sta peggiorando ciao ciao